Pulitano, oggi si brinda idealmente a questa nuova gestione da parte dell'ATL? ATL è sempre presente sul territorio, oggi abbiamo proprio una prova importante, stiamo portando avanti quelle che sono le istanze del territorio e questo territorio aveva proprio bisogno di un punto turistico per portare avanti quelle che sono le bellezze naturali che abbiamo dalla montagna, dalle grotte e tutto quello che poi è la parte sentieristica. Quindi noi cerchiamo di promuovere questo territorio con i nostri uffici turistici pensando di avere un grande risultato, soprattutto un risconto turistico che sembra che dopo il riposizionamento che abbiamo avuto sull'outdoor ci sta dando ragione e ci sta dando anche dei grandi risultati e soddisfazioni. In una di quelle che sono le roccaforti del turismo montano del nord-ovest dell'Italia il fatto che nasca questa collaborazione fra l'ATL del Cuneese e l'amministrazione dell'amica Io del Caramello non può che fare bene. Fare bene per una promozione importante per l'estate dove si vive ancora sui villeggianti ma si apre alle nuove frontiere dell'outdoor. Importante sicuramente il collegamento con l'Alta Frabosa, Frabosa Sottana e quindi con Pratonevosa e con Artesina per un sistema turistico del Moregadese che può essere forte può riverberare presenze anche sul Fondovalle e sulla città di Mondovì. E poi chiaramente si guarda all'inverno con grandi prospettive dove questo ufficio dovrà giocare una parte importante per quanto riguarda l'accoglienza e la promozione. L'ATL con l'apertura qui nel Comune di Frabosa Soprana conferma il suo radicamento sul territorio e i suoi vari distaccamenti negli uffici nei vari comuni dove la presenza turistica è parte fondamentale del PIL della città stessa. La scorsa settimana a Garessio, questa settimana l'apertura qui a Frabosa Soprana dimostra come c'è attenzione verso il turismo e verso il turismo di tutte le vallate dove le presenze comunali sono all'interno dell'ATL. Una bella maniera per portare avanti il discorso turistico di un'unione che comunque al suo interno i comuni diciamo forse più importanti per quanto riguarda risultati e risposta turistica degli ultimi anni per quanto riguarda sia l'inverno che l'estate. L'ufficio turistico comunque è fondamentale fondamentale perché comunque rappresenta il proprio comune però in questo frangente rappresenta anche l'unione e è quello che diciamo apre un pochettino la porta al turista e mette a conoscenza di tutte le bellezze che abbiamo di tutte le attività che si possono fare sia estive che invernali quindi è un punto fondamentale per quanto riguarda una risposta turistica in un comune prettamente di montagna.